E ritorniamo alla cronaca, sarà effettuata l'autopsia sul corpo di Petrus Comarzan, il rumeno di 35 anni, da tempo residente a Carini, rimasto ucciso da un auto che l'ha travolto lungo la strada provinciale 3 domenica scorsa. Così ha deciso il magistrato che ha aperto un'inchiesta sull'episodio e che ha già portato ad una prima svolta. È stato infatti rintracciato l'automobilista che lo ha investito, il quale si è dato la fuga dopo aver chiesto aiuto al conducente di un altro mezzo che transitava da quelle parti e che ha lanciato la richiesta di soccorso. I carabinieri lo hanno arrestato con l'accusa di omicidio colposo e rimesso in libertà. Si tratta di un incensurato di torretta di 27 anni. La vittima è stata riconosciuta soltanto ieri grazie alla moglie che ne ha denunciato la scomparsa. Non aveva indosso né il telefono né i documenti al momento dell'incidente. Ieri sera, durante il direttivo comunale delle socialiste di Valderice, la responsabile delle donne socialiste Daniela Virgilio ha conferito l'incarico di vice coordinatrice di Valderice a Maria Grazia Coppola. Avvocato, 41 anni, Grazia Coppola è già impegnata nelle attività svolte dalla sezione Clara Zectin e collabora attivamente nel coordinamento provinciale, mettendo a disposizione la sua competenza e professionalità. Ritorniamo a parlare di Alcamo. Ritorniamo concessioni edilizie in un'ora. Partita dal Comune la sperimentazione, il sistema andrà a breve a regime. Partito concretamente quindi il piano di sburocratizzazione dopo l'apertura di un apposito ufficio. Vediamo i particolari. Prove tecniche al Comune di Alcamo per snellire al massimo le procedure per il rilascio delle concessioni edilizie. In questi giorni, all'ufficio front office dell'urbanistica, recentemente attivato al Comune, sono state fatte le prime prove per l'esito di una pratica in tempo reale. E' stata simulata quindi la presentazione della pratica, la verifica della documentazione, l'approvazione tecnica e il successivo rilascio dell'autorizzazione. Abbiamo sperimentato, afferma l'assessore all'urbanistica Enzo Coppola, che è possibile in circa un'ora fare tutto, dalla presentazione al rilascio. Ora stiamo provando ad andare a regime, per questo chiedo a tecnici e cittadini un po' di pazienza per mettere per l'appunto a regime il sistema. I colleghi dell'urbanistica sono i veri protagonisti di questi successi. E' quindi concretamente partito il piano di sburocratizzazione che da tempo sta cercando di portare avanti l'assessore Coppola. Sino ad oggi Alcamo ha vissuto un problema proprio di lentezza delle procedure nelle concessioni edilizie. Problema di non poco conto dal momento che il congelamento delle edilizie alcamese ha avuto come netta conseguenza un'ondata di licenziamenti nelle imprese del settore e tanti problemi anche per l'indotto. Per questo l'assessore all'urbanistica ha voluto attivare questo front office per il controllo preventivo formale delle pratiche edilizie finalizzato a ridurre le richieste di integrazione documentali e con ciò accelerare il rilascio dei titoli abilitativi. Un'apposita modulistica è stata resa disponibile sul sito del Comune e potrà essere utilizzata dai tecnici per presentare le pratiche secondo standard prefissati e concordati con i tecnici che potranno segnalare incongruenze, integrazioni o modifiche da portare alla modulistica. Nell'ambito di questo stesso filone si è parlato del complesso problema delle prescrizioni esecutive di Alcamo Sud, la cosiddetta pedia montana. In questo caso l'assessore ha spiegato che il dirigente del settore urbanistica del Comune ha predisposto una direttiva per gli uffici che ha sbloccato l'istruttoria delle pratiche che adesso vengono vagliate nel merito per valutarne la probabilità. Al riguardo, così come per le nuove direttive del PRG, si pronuncerà il Consiglio Comunale dopo la delibera di giunta dei mesi scorsi in cui per l'appunto si andava nella direzione di superare l'impasso burocratico. Per Coppola questa è la direzione giusta per arrivare anche ad incentivare l'occupazione. Presto anche un regolamento per le procedure del SUAP, lo sportello unico per le attività produttive e importanti iniziative per rendere l'archivio storico dell'edilizia privata più facilmente consultabile adottando procedure informatiche. Domenica prossima, 1 marzo, la Dioce si di Trapani celebra la giornata del seminario. In questa giornata due giovani seminaristi, Antonino Catalano e Salvatore Fazio, saranno ammessi tra i candidati agli ordini sacri. Questo rito di ammissione, che si svolgerà durante la Santa Messa alle 18, nella Cappella Regina degli Apostoli a Casa Santa Erice, presieduta dal Vescovo Monsignor Pietro Maria Fragnelli, sigilla il momento ufficiale in cui un giovane, dopo due o tre anni di seminario, riceve dal proprio Vescovo garanzia sulla vocazione al sacerdozio ricevuta se continua nell'impegno serio di conversione e formazione. Impegno che viene preso pubblicamente davanti all'Assemblea radunata. I due giovani seminaristi sono entrambi nati ad Erice. Vertice romano per le zone franche urbane. I sindaci della provincia di Trapani chiedono più fondi e accusano il governo regionale di lentezza nella spesa dei fondi europei. Il servizio. Più risorse per le zone franche urbane della provincia trapanese sono i sindaci a battere i pugni sul tavolo e lo hanno fatto nel corso di un vertice a Roma, ieri convocato nella sede del Lanci Nazionale. La riprogrammazione finanziaria prevista, intanto per 140 milioni di euro le aree riconosciute ZFU, a cui andrebbero aggiunti altri 90 milioni per le prime 22 ingradatorie, fra le quali Erice, è stato l'argomento della riunione cui hanno partecipato anche il sindaco di Erice, Giacomo Tranchida, coadiuvato dall'assessore allo sviluppo economico Gianni Mauro. Da parte proprio della provincia trapanese non sono mancate le accuse rivolte al governo regionale, accusato di essere stato incapace di spendere adeguatamente tutte le risorse messe a disposizione dall'Unione Europea. Tanti soldi che rischiano di essere persi se non spesi entro il 2015. Il primo cittadino di Erice si è quindi rivolto a tutti i colleghi siciliani, invitandoli a condividere un tavolo di discussione sull'eventualità che la regione Sicilia possa incrementare l'esigua disponibilità finanziaria prevista, con risorse aggiuntive derivanti dalle varie misure della programmazione 2007-2013 non ancora spese e che se non rendi contate entro il 31 dicembre rischiano di essere restituite all'Europa. Già lo scorso anno, prima in sede regionale alla presenza dell'assessorale Infrastrutture e poi presso Confindustria Rapani, anche alla presenza del Presidente della Regione, a ferma Tranchida, avevo posto l'accento su tale opportunità di fatto, prevedendo l'incapacità del governo regionale sulla spesa europea. Ebbene, tanto purtroppo si è avverato ed oggi l'unica possibilità di salvare buona parte dei fondi europei potrebbe essere rappresentata ancora una volta dalle ZFU, ma per spese subito da impegnarsi per la realizzazione di microintraventi e di diversa tipologia. Conerici ad essere riconosciute zone franche urbane anche Trapani e Castelvetrano ed in tal senso, secondo i sindaci del Trapanese, ci sono state date delle indicazioni su come distribuire fondi sul sociale a fronte del disagio socio-economico presente nei territori, sulle infrastrutture con interventi di sicurezza stradale, arredo urbano, ammodernamento tecnologico e impianti ed infine sulla sicurezza attraverso investimenti in videosorveglianza. Gli interventi proposti, che si configurano assolutamente complementari alle finalità delle zone franche urbane, permetterebbero ai comuni del Trapanese siciliani di poter realizzare quei piccoli investimenti che, congiuntamente ai benefici fiscali della ZFU, per davvero possono incidere sul riscatto, valorizzazione e promozione di quei territori. Tanto vale anche nel caso della nostra ZFU di San Giuliano e Spiaggia Lungomare di Chiera Tranchina, sia in relazione ad opere e servizi di riqualificazione sociale urbana, che di ricchezza economica investita comunque sul territorio siciliano, diversamente dal disimpegno europeo dei fondi per responsabilità e colpa dell'incapace governo della regione. Due bandi di gara relativi ad altrettanti progetti del distretto turistico Sicilio-Occidentale finanziati dalla regione siciliana a valere sul bando per il cofinanziamento dei progetti di sviluppo proposti dai distretti turistici regionali POFES 2007-2013, sono stati pubblicati sul sito internet del comune di Trapani. I due progetti, il cui importo complessivo ammonta circa 700 mila euro, hanno l'obiettivo di promuovere il territorio del distretto, che comprende 13 comuni dell'ex provincia di Trapani. In particolare il progetto attività di promo commercializzazione della destinazione Sicilio-Occidentale intende realizzare iniziative di promo commercializzazione della destinazione turistica della Sicilio-Occidentale. Il progetto invece sistema integrato di infomobilità del distretto turistico Sicilio-Occidentale punterà sulla tecnologia per migliorare e facilitare l'accesso ai luoghi di visita, nonché la visibilità del territorio attraverso moderni sistemi di comunicazione. Esplode la rabbia degli studenti dell'Istituto Ottico Professionale di Trapani, costretti a doppi turni e a infiniti disagi, in difficoltà soprattutto i pendolari. Ieri protesta in strada, preannunciate altre iniziative di lotta. A Trapani, nell'Istituto Ottico Professionale, secondo Romano Antonino, responsabile della comunicazione della rete degli studenti medi di Trapani, la situazione ha dell'incredibile. Gli alunni sono costretti a fare lezioni nei laboratori, addirittura nell'aula magna della scuola. È come se ciò non bastasse a generare abbastanza problemi per la didattica, adesso la decisione, quasi dovuta della Presidenza, lasciata totalmente sola, di dividere le lezioni in due turni, con alcuni studenti nelle ore mattutine ed altre nelle ore pomeridiane. La situazione creerà diversi disagi sia per i professori che per gli alunni, in particolar modo per quelli pendolari. Ma com'è possibile una situazione simile all'interno di una scuola, il luogo dove dovrebbero nascere cultura ed educazione? Noi ragazzi, continua Romano, ci meritiamo seriamente così poco? La rete degli studenti medi e gli studenti stessi dicono no. Infatti ieri tutto l'istituto è sceso in piazza, nonostante il brutto tempo, per protestare contro questo ennesimo caso di mala scuola e per gridare contro l'amministrazione pubblica. Noi non ci arrendiamo, conclude il responsabile comunicazione della rete degli studenti medi di Trapani, e andremo avanti finché non riceveremo quello che vogliamo, il nostro diritto allo studio. Il sindaco di Campobello di Mazzara, Giuseppe Castiglione, annuncia che domani partirà il servizio di mensa scolastica finanziato dal comune e rivolto agli alunni dell'istituto comprensivo Pirandello San Giovanni Bosco. Il servizio si rivolge ai 100 alunni che frequentano il tempo prolungato, le tariffe fissate tenendo conto del reddito e dell'eventuale presenza di invalidità dei minori. Il servizio mensa sarà espletato dalla ditta Vitti e SRL giudicataria della gara d'appalto. E cambiamo argomento, riparte nell'Egadi il servizio di sorveglianza in mare. Si coaudivano Capitanerie di Porto e Forza dell'Ordine nel controllo e nella prevenzione dei reati lungo la costa. L'ente di ingrandimento anche per le autorizzazioni per la pesca. Il servizio. Anche quest'anno il comune di Favignano, in qualità di ente gestore dell'area marina protetta Isole Egadi, ha attivato il servizio invernale di supporto alla sorveglianza e alla prevenzione in mare per coaudivare la Capitaneria di Porto e le altre forze dell'Ordine nelle attività di presidio e pattugliamento. L'equipaggio, composto dal personale dell'area marina protetta, svolgerà il servizio di prevenzione e controllo su tutte le isole dell'arcipelago, a bordo della pilotina dell'AMP. Il compito principale sarà il controllo delle autorizzazioni rilasciate dall'AMP riguardanti soprattutto pesca sportiva, pesca professionale e ancoraggio. L'attività fungerà anche da deterrente alla pesca di frodo e gli altri comportamenti vietate tramite pattugliamento e puntuali segnalazioni alle autorità competenti. Il servizio garantirà anche il recupero di oggetti galleggianti e rifiuti rivenuti in mare e la segnalazione di avvistamenti di specie protette, quali cetaci, tartarughe, squali e specie ariene. Al fine di assicurare la massima efficienza delle uscite, saranno variati continuamente gli orari e le giornate in cui si effettuerà l'attività di prevenzione e supporto alla sorveglianza. Anche nei periodi lontani della nostra lunga estate, ha dichiarato il presidente dell'AMP e il sindaco di Favegnano Giuseppe Pagoto, quando le nostre coste e il mare si spopolano dei turisti, noi continuiamo a presidare il territorio marittimo, esercitando una presenza discreta e al servizio dei cittadini con i mezzi dell'area marina protetta. L'esperienza positiva degli scorsi anni e buoni risultati raggiunti con una riduzione degli abusi ci inducono a proseguire in questa attività. Non ci sono più notizie dell'ultima ora, l'informazione di Alpa 1 si chiude qui. Come sempre grazie per l'ascolto e per risentirci. Grazie per l'ascolto e per l'ascolto e per l'ascolto e per l'ascolto.